Affinché l'allattamento avvenga con benessere sia per la madre sia per il neonato è importante che la madre sia comoda con la schiena ben sostenuta e i piedi su di uno sgabello ed assuma una posizione rilassata che non gravi troppo su schiena e collo. Anche il neonato deve essere ben sostenuto con il corpo vicino e rivolto verso quello della madre. Orecchio, spalla e anca devono essere ben allineati per favorire la sua deglutizione. Per favorire un attacco profondo è importante che il bambino sia posizionato con il naso davanti al capezzolo della mamma. Il capo sia leggermente inclinato affinché il mento sia ben adeso alla mammella e il naso libero. Nella posizione a culla la mamma è comodamente seduta e la testa del bambino appoggia delicatamente sul suo avambraccio. In questa posizione è necessario porre attenzione che la testa del bambino non sia nella piega del gomito della mamma, andando a stirare di lato la mammella e rendendo difficile per il neonato rimanere attaccato al seno. La mamma, con la mano libera, EAC, può sostenere la mammella durante la poppata. Nella posizione a culla incrociata, la mamma sostiene il suo bambino con l'avambraccio opposto rispetto alla mammella che gli offre. La mano sostiene testa e spalle, mentre pollice e indice sono alla base delle orecchie. La mamma, con la mano libera, EAC, sostiene la mammella durante la poppata. Questa posizione può essere utilizzata per le prime poppate perché è più facile l'attacco al seno. La posizione sotto il braccio o a rugby è una posizione utile per drenare i quadranti esterni della mammella perché il neonato è posizionato sotto il braccio con i piedi rivolti verso lo schienale della poltrona e offre una buona visione dell'attacco al seno. Questa posizione è utile in caso di allattamento di gemelli, in caso di capezzoli dolenti, in caso di ragadi. I benefici dell'allattamento al seno sono ampiamente riconosciuti sia da un punto di vista nutrizionale che di relazione. Nei primi giorni la mamma può avere bisogno di aiuto, di un sostegno. La cosa più importante è assumere una posizione corretta che aiuti il bambino a poppare bene e ad assumere latte a sufficienza. La posizione semireclinata è adatta per le prime poppate ma utilizzabile anche in seguito. È un modo naturale e semplice perché il bambino assuma le competenze innate del raggiungimento del seno e la mamma di prendersi cura di lui. È di grande aiuto quando il bambino sta imparando a poppare, quando fa fatica ad attaccarsi, quando la mamma ha dolore al seno o quando il seno è molto teso. La mamma adagia il suo bambino sul suo petto a pancia in giù facendo attenzione che poggi la guancia e che abbia sempre le vie aeree libere. Nella posizione sdraiata su un lato la mamma si sdraia di fianco con la testa appoggiata sul cuscino e il braccio sotto il cuscino o lateralmente. È una posizione ideale per le poppate notturne o quando la mamma ha dolore ai punti di sutura. Bisogna fare attenzione che il naso del bambino sia alla stessa altezza del capezzolo della mamma di modo che il bambino non sia costretto a inclinare il collo per raggiungere il seno. La mamma deve stare sdraiata sul fianco con il bacino reclinato all'indietro di modo da formare una grande C con il corpo che l'aiuti a contenere il bambino durante la poppata.